Seguono una pista foggiana gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Secondo le forze dell'ordine, dietro la clamorosa rapina di due giorni fa, a Livri di San Giovanni Tiatino, potrebbe esserci la criminalità organizzata pugliese. Questo in base alle modalità del colpo, fanno sapere le autorità. Intanto a Spoltore sono state trovate cinque auto abbandonate, probabilmente utilizzate durante la fuga, e anche un mitra lasciato in un prato. In tutto sono 19 i mezzi attualmente posti sotto sequestro, tra cui la ruspa, utilizzata come ariete, e l'auto e il camion, dati alle fiamme e utilizzati come barricata contro le forze dell'ordine. Una rapina da altri tempi, degna della trama di un film hollywoodiano, preparata nei minimi dettagli. Giovedì intorno alle 20.30, una banda di una quindicina di persone ha fatto irruzione a Livri, l'Istituto di Vigilanza di Securitalia, proprio in un momento in cui, secondo quanto trapelato, i soldi portati dagli operatori del Livri dovevano essere riposti nel cavo. I rapinatori sono arrivati e andati via nel giro di cinque minuti, portando con sé una somma tra i 5 e i 6 milioni di euro. Anche il piano più studiato, però, può essere rovinato dall'imprevisto. Per scelta o per necessità, i banditi hanno preso di mira solo la sala conta e non il cavo, dove forse non sono riusciti a entrare per tempo. All'interno della camera blindata avrebbero trovato ben 80 milioni di euro. Se li avessero rubati, sarebbe stato il colpo del secolo. Finora nessuno è stato arrestato. Sul luogo della rapina sono stati ritrovati una ventina di bossoli, a conferma dell'avvenuto scontro a fuoco coi vigilanti, e rinvenuti anche dei triboli, chiodi a tre punte dall'antica tradizione bellica. I triboli, infatti, utilizzati fin dai tempi di Alessandro Magno per fermare gli elefanti di Dario nella battaglia di Gaugamela, oggi fermano le gazzelle della polizia.